Bisoli, crediamo soddisfatto per questo pareggio acciuffato al 95esimo quando fino a 5 minuti dal termine la partita sembrava chiusa sul 2-0 del Pescara poi è successo qualcosa che forse in pochi si aspettavano in casa Veneta lei si aspettava questi due gol nel finale? Io ho sempre detto di giocare come avevamo fatto, noi avevamo preso un gol su una punizione e su un rigore abbastanza generoso poi è vero, loro sono bravissimi a tenere palla perché secondo me erano uno dei più grossi, più grandi del centro campo della Serie B più forti della Serie B, però noi ci siamo disinuiti, noi i grandi tiri non hanno fatti noi avevamo avuto al primo tempo secondo me tre situazioni importanti poi è chiaro che ci deve essere qualcosa di scatenante e il tiro da 30 metri di Cisco ha dato un là importante ma l'avevamo avuto un po' prima, secondo me se lo facevamo un po' prima quel gol poteva creare qualcosa io sono più contento di una vittoria rosicata ma meglio un pareggio di qui contro una squadra che è seconda in classifica che ha giocatori che sono tutti esperti, di categoria importante e quindi vuol dire che la mia squadra oggi non è morta perché sul 2-0 poteva morire, poteva prendere un'imbarcata incredibile invece siamo stati lì questo secondo me è un punto di partenza importante Io voglio fare l'analisi della partita nel primo tempo dove andavate molto spesso in pressione sul centro campo del Pescara però lei diceva giustamente che la qualità dei biancazzurri uscivano molto bene dal vostro pressing è stata quella la chiave della supremazia nel fase di possesso del Pescara? Loro hanno dei palleggiatori importanti hanno personalità quindi giocano anche sotto pressione però tutto sommato noi nel primo tempo tranne la punizione non avevamo rischiato niente anzi noi avevamo avuto delle situazioni mi sembra con Bonasole, Pulsetti e Clemenza delle situazioni almeno di andare al tiro poi il calcio è questo allora hanno sfruttato benissimo il calcio di piazzato e ci ha creato un problema però io ero tranquillo a fine primo tempo poi ti capita questo rigore abbastanza generoso poteva ammazzarsi invece no, siamo stati lì bravi ho dei giovani interessanti perché ho visto che oggi sono entrati tutti colpeglio giusto e quindi abbiamo la nostra entità noi abbiamo detto che siamo una neopromossa che abbiamo fatto una squadra giovane con un mix di vecchietti importanti e creiamo questo noi siamo secondo me avanti l'aspettativa perché noi abbiamo incontrato le prime della classe tranne il Venezia che adesso è un po' più giù ma che veniva dai playoff dell'anno scorso Mister, i fatti della partita dicono che lei però ha azzeccato il cambio che ha cambiato questa partita mi scusi il gioco di parole perché con Cisco il Padova ha cambiato passo appena entrato il giocatore ha avuto un'occasione per segnare subito il gol ha parato Fiorillo poi questa gran conclusione al novantesimo insomma un giocatore che da solo è riuscito un po' a ribaltare le cose ha delle qualità importanti è un 98 che l'anno scorso ha fatto delle partite e ce l'ha fatta vincere e quindi va fatto crescere con grande tranquillità aveva perso un po' diciamo la sua dimensione il fatto che era stato acquistato da Serie A e dieci giorni che si allena con quella piglio giusto e oggi mi sembrava giusto riproporlo e oggi mi è andata bene ma lui ha delle qualità importanti è un cavallo di rassa molti compiti tattici non gli ne devi dare devi dargli la palla e far puntare l'uomo uno contro uno e oggi ho trovato secondo me un gol straordinario che se lo facessero in Serie A se ne parlerebbe per tanto tanto tempo ha fatto un ragazzo di Padova del nostro settore giovanile penso che siano felici tutti i padovani una considerazione tattica proprio in riferimento a questo cambio nel primo tempo lei faceva riferimento a qualche situazione soprattutto quando Bonazzoli veniva in corso e Pulsetti e Clemenza attaccavano la profondità perché ha tolto proprio Pulsetti per inserire Cisco nel secondo tempo che cosa non le stava piacendo? perché loro nel possesso palla ci portavano i terzini con superiorità numerica e ci eravamo sempre con due battute in meno quindi volevo creare l'uno contro uno per cercare di tenerli un po' più lontano possibile perché secondo me sia Balzano che Grosso avevano parecchio campo e quindi ho optato per questo Un'ultima battuta Bisoli lei è un tecnico esperto siamo alla sesta giornata ma secondo lei questo Pescara può essere protagonista in questo campionato lei ha già visto il Verona tra l'altro qualche settimana fa secondo lei la squadra di Pillon potrà fare recitare un ruolo da protagonista? È un campionato livellato molto verso l'alto quest'anno ci sono delle squadre il Foggia vi dico è una squadra importantissima e noi abbiamo perso gli ultimi 5 minuti un'altra volta due tiri da 30 metri Crotone Verona Brescia ce n'è una marea quest'anno io ho detto in conferenza stampa l'altro giorno che il Pescara ha il centrocampo forse più forte della Serie B poi dei giovani interessanti anche loro ha una squadra esperta dietro se si incastrano tante cose può recitare veramente un ruolo importante specialmente che è partito con questa verve perché tutto sommato è a 12 punti è un punto della vetta e quindi vuol dire che ha delle qualità importanti chiaro che bisogna vedere la continuità la Serie B in continuità noi recitiamo un altro ruolo però siamo una squadra che anche noi quando ci siamo diamo del filo da torcino l'ultima anche da parte mia approfitto della sua sincerità proprio per chiedere anche io del Pescara ha detto il centrocampo più forte per essere da protagonista con una squadra forte 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 secondo lei dove è un po' carente rispetto alle big della vigilia di questo campionato forse manca qualcosina in fase offensiva sull'esterno un po' di esperienza lì? dipende da cosa vuoi puntare perché molte volte i giovani no, no, certo dipende da cosa vuoi puntare se avere freschezza o qualità con l'esperienza secondo me i giovani importanti perché Marras e Antonucci oggi hanno dimostrato che se li dai campo insomma un po' ti tirano il collo e la questione è solo della coperta corta e dove la tiri secondo me loro se giocano e si specchiano un po' meno si specchiano un po' meno e in questo fraseggio sempre poi bisogna andare sempre a dare dentro secondo me possono recitare un ruolo importante grazie